Perché? Perché nel barcellinese viene fondamentalmente basato solo sui principi fondamentali delle danze standard, ok? E non sono molti questi principi fondamentali, e sono i principi che, analizzati ad alto livello e sviluppati ad alto livello, danno anche la massima qualità del ballo, ok? Quindi, come se vi dico, cosa serve per fare un bel piatto di spaghetti alla carbonara? Sicuramente gli spaghetti devono essere buoni, ok? Non è che serve cucinarli bene, gli spaghetti devono essere di qualità buona, le uova devono essere buone, la pancetta deve essere buona, ok? Il sale, il pepe, poi l'acqua, è normale, anche l'acqua ha la sua importanza. Sono i principi che poi, dopo la fine, fanno la differenza e ti fanno avere un piatto di qualità. È normale che anche chi lo prepara deve avere le conoscenze giuste su come dosare le quantità e come dosare la tempistica. Vedete che la cucina e il ballo si avvicinano, quindi...